Musica Ci siamo occupati di cloud già negli anni scorsi ma ci sembrava importante e fondamentale dedicare un momento di attenzione all'inizio di quest'anno, in un momento così particolare, a questo nuovo paradigma. All'interno della nostra agenda abbiamo portato la visione a EDC anche grazie al contributo della nostra collega Meteorlo dell'Unopian Service Group di EDC, testimonianza dei nostri partner tecnologici ma soprattutto il contributo delle aziende utenti sia sotto forma di testimonianza, citiamo il caso ad esempio della nuova trasporto viaggiatori, ma anche il confronto attorno al cloud tra figure di business nel talk show con Roberto Cavalli. E nella giornata naturalmente abbiamo anche poi i focus group che sono il momento di dibattito e confronto con le aziende utenti in maniera informale sui temi del cloud. Quello che emerge sia dalle nostre indagini più recenti, le abbiamo presentate questa mattina, sia dal confronto proprio con le aziende è un nuovo profilo in generale dell'IT anche grazie al cloud. Quindi se è inserito in un percorso di rinnovamento vediamo che l'IT in qualche modo diventa potremmo dire quasi più elegante, si sveste anche un po' di quella componente tecnologica che forse storicamente l'ha anche appesantito e si proietta di più all'interno dell'organizzazione dei processi. Quindi in tutte le iniziative cloud vediamo che c'è una forte connotazione di business, quindi è lì la risposta viene, può venire dalle tecnologie, ma può venire anche da un nuovo modo di relazionarsi, un nuovo modo di confrontarsi. Vediamo effettivamente come il cloud può aiutare le aziende a muoversi anche in questa direzione. Grazie a tutti.